ciao a tutti oggi sono qui per parlarvi di un altro tema sailor che mi sta a cuore se avete visto qualche altro mio video avete notato che io tendo a preferire così mamoru rispetto a seia come love interest amoroso per usaghi e quindi in questo video cercherò di esprimere alcuni miei pareri generali che magari in altri video cercherò di esplicare in una maniera più dettagliata in particolare per esempio per parlare di seia cercherò di andare a vedere di nuovo la quinta serie e darvi riferimenti precisi che tra l'altro diede in un articolo che vi linko qua sopra non so forse nella descrizione del video però vorrei rivederlo insomma per avere le idee più chiare in questo video non sapevo se parlare di di quanto seia era di quanto usagi fosse davvero innamorata di seia del fatto che se fosse vero secondo me che seia amava usagi più di quanto non l'amasse mamoru e che ho altro aspettate quindi alla fine ho deciso di focalizzarmi su questo secondo tema perché lo sento ribadire beh molto spesso con riguardo alle persone che dicono di preferire la coppia seia usagi e vorrei affrontare la questione da narratrice perché so so perché seia è piaciuto così tanto se lo chiedete a uno spettatore qualunque vi dice perché ama di più il suo carattere perché il suo carattere diverso secondo me è solo parte della risposta quindi partiamo da capo seia ci viene presentato in come una sorta di alternativa mamoru e questa non è un'opinione perché nella prima puntata se vi ricordate il primissimo incontro tra usagi e seia non quello all'aeroporto ma quello in cui si parlano avviene con la musichetta di mamoru quella che di solito accompagnava la presenza di mamoru in sottofondo quella che accompagnava la sua presenza quando lui incontrava usagi in quegli incontri scontri nella prima serie ecco d'improvviso viene usata per seia quindi c'era una sorta di tentativo di rimpiazzarlo non so perché abbiano anche deciso di dare gli stessi capelli neri gli stessi occhi blu non so se fosse già nelle intenzioni della tacheuce quindi fosse quello il design forse sì non darò la colpa a nessuno per questo allora di solito chi ama molto seia dicono che seia pensa di più a usagi seia le è più simile la corteggia di più ok quindi questi sono i punti c'è una particolarità nel modo in cui ci viene presentato seia e il motivo del suo successo e parte da una questione che è esterna alla storia ovvero da ricercarsi nella produzione di sailor moon fino alla quarta serie sailor moon aveva avuto sempre lo stesso team di sceneggiatori nella prima era affidato a junichi sato se non erro e poi passato a ikuhara che aveva già diretto qualche episodio della prima stagione quindi non era nuovo alle dinamiche di sailor moon ikuhara che tra l'altro aveva poco interesse nella dinamica romantica tra usagi e mamoru e si è visto perché quello che ha pensato di darci è un breve arco in cui i due si conoscevano un po di più dico quello di elean poi li ha fatti lasciare si poi da quando si sono remessi insieme praticamente come coppia a parte qualche sprazzo di puntata dimenticati cioè non erano più loro il centro ormai stavano insieme quindi fine non c'era bisogno di di addentrarsi oltre nella loro storia d'amore perché ikuhara riteneva a torto ragione in realtà forse più a ragione che il focus di sailor moon fossero le ragazze e quindi bisognava mostrare loro come gruppo in questo senso mamoru e quindi la storia d'amore era accessoria veniva data come dato di fatto ikuhara e altri altri realizzatori della serie fra cui anche disegnatori sono hanno avuto degli scontri con la toei nella quarta serie anche credo per via della particolarità della quarta serie che era così focalizzata su kibiusa come aveva voluto ikuhara tra l'altro ikuhara che pensava di fare addirittura un terzo film incentrato su da qualche parte l'ho letto di recente cioè l'ho ricordato di recente incentrato su un pegaso nero una roba molto fantasiosa ikuhara ha dato vita a tutte le sue idee alla massima potenza con utena non so se molti se molti di voi l'abbiano visto comunque se lo avete visto capirete cosa intendo dire quindi ikuhara non era non sentiva sailor moon proprio come un'opera sua posto che l'ha resa sua e poi pian piano però ma non era quello il principale motivo per cui si è distaccato perché altrimenti non se ne sarebbero andati anche i disegnatori alla fine della quarta serie il fatto sta che il team che lavorava sailor moon ha detto ciao in quasi in massa è rimasto qualcuno hisashi kagawa ad esempio aveva disegnato i film gli ultimi due film e ha disegnato anche l'intro la opening sailor star di sailor stars però poi anche lui non c'è stato più e il disegnatore che ha disegnato l'episodio 200 e che ha dato il character design a tutta la quinta serie esisteva cioè esisteva aveva già lavorato nelle serie precedenti ma in un ruolo secondario quindi adesso è diventato lui il primario e chi scriveva sailor moon allora adesso qualcuno di nuovo che non aveva avuto non so se non aveva proprio mai lavorato a sailor moon fatto sta che non ne aveva mai avuto il comando insomma in questo modo e questa persona qui ha cambiato un po il genere di non il genere scusate il focus di sailor moon e ha deciso di renderla più romantico e si è visto con seia cosa posso dirvi per dimostrarvi che era più romantico beh se già vi è piaciuto seia lo avete visto le differenze ma in generale cercate di rammentarvi un episodio in cui il focus sia stato su mamoru su quello che pensava lui su quanto soffriva o su quanto era innamorato di usagi immagino che dobbiate a pensarci un attimo perché non c'è stato praticamente mai qualche per esempio c'era l'episodio in cui l'aveva lasciata e usagi era stata messa a dormire da un mostro e quindi avevamo visto che mamoru stava soffrendo per lei in qualche minuto ok o anche quando l'aveva lasciata a un certo punto dopo che lei era andata a soffrire vedevamo la sua faccia di lui che soffriva però a parte questo il focus durante quella break up arc cioè durante la fase della rottura e durante il no scusate ma penso che si senta nei suoni della lavatrice ho dimenticato di chiudere la porta non so se alzarmi o meno no rimango oramai sono qui ok dicevo il focus comunque non abbiamo mai visto le cose dal punto di vista di mamoru non in maniera sistematica invece nella storia tra usagi e seiya una storia d'amore che tra l'altro non è mai decollata perché il povero sceneggiatore della quinta serie che adesso di cui adesso non ricordo neanche il nome comunque non poteva far lasciare la coppia ufficiale perché non era quello che succedeva nel manga e quindi poteva solo lanciare l'amo e ritrarre la mano perché la fine non è mai successo nulla di concreto tra usagi e seiya perché lui non poteva farlo succedere se avesse potuto fidatevi se l'avrebbe fatto senza dubbio lui ha descritto tante volte l'infatuazione di seiya dal suo punto di vista quante volte noi abbiamo visto la faccia di seiya che pensava usagi quante volte la storia si è allontanato dalle protagoniste principali per parlarci solo delle star lights e guardare le cose dal punto di vista loro e di seiya tantissime molto più di quanto non è stato fatto ad esempio con haruka e michiro haruka e michiro quando sono state presentate quindi le precedenti guerriere esterne che sono state presentate c'erano alcune puntate selezionate in cui vedevamo il loro punto di vista per la maggior parte vedevamo le ragazze le inners come le vedevano loro questo tra l'altro ha contribuito a creare un'aura di un'aura di mistero un'aura di mistero invece le star lights hanno avuto molta sono diventate quasi più protagoniste del di usaghi no ma delle inners senza dubbio tra l'altro ogni volta le inners venivano mostrate che l'idro latravano questi ragazzi che erano entrati nelle loro vite perché erano cantanti ok quindi però tornando a seiya l'impressione chiamasse di più usaghi è consolidata da quante volte c'è stato mostrato chiamava usaghi se fosse stato il contrario cioè se la quinta serie fosse stata diretta dai sceneggiatori precedenti probabilmente avrebbero adottato un approccio più simile a quello che è stato usato quando sono state viste cioè sono state presentate le le outers a ruga e michiru ovvero magari si sarebbe senza dubbio intuito che seiya era innamorato di usaghi però non non avremmo avuto così tanti episodi e momenti dedicati a lui a lui a quello che provava e questo potrebbe sembrare che potrebbe sembrarvi di no ma questo influenzerebbe tantissimo il modo in cui adesso saremmo affezionati alla coppia io parlo in generale io non sono affezionata ma in generale so che ha avuto parecchio successo ed è anche naturale perché sembrava davvero che ci fosse un'attenzione per questa possibile relazione come non ce n'era mai stata neanche per per usaghi e mamoru al tempo mi chiedevo come mai oggi lo capisco perché c'era un nuovo scrittore e a questo proposito devo dire anche un'altra cosa perché ritengo che questo spieghi a parte quello che si è visto ovvero tutta l'attenzione data a seiya perché ritengo che la presenza di un nuovo scrittore spieghi questo fenomeno perché in effetti lo sentivo dire anche da qualcuno quindi in giro in questi giorni quindi sono felice di non essere stata l'unica ad avere questa opinione sembrava in un certo senso sailor stars che fosse una sorta di fan fiction del pre dei precedenti sailor moon cioè come se fosse arrivato una persona nuova a scriverlo e avesse fatto cose che non venivano fatte mai se pensate bene le ragazze le inners si comportavano in maniera veramente poco caratteristica per essere loro cioè anche emi che andava dietro a agli altri a questi ragazzi qui e usaghi che all'improvviso era diventata molto più matura tra l'altro se uno si guarda tutte le quattro serie le cinque serie di seguito nota che comunque e questo bisogna dar atto al nuovo sceneggiatore lui se le guardate tutte quante perché è stato coerente nello scrivere usaghi usaghi è stato molto coerente e però quando è arrivato come tendono a fare i nuovi scrittori anche gli scrittori di fan fiction è normale a un certo punto cercare di inserirsi nella storia per cercare di renderla propria altrimenti si fa davvero fatica a a prendere le redini di qualcun altro ok perché in genere lo scrittore deve essere una sorta di dio nella storia deve muovere tutti i personaggi e se ne inserisce uno nuovo che lo rispecchi che trasmetta i suoi punti di vista sulle vicende e sugli altri personaggi è più facile per lo scrittore muoversi l'ho fatto anche io in una scrivo pure fan fiction su sailor moon e mi sono resa conto di farlo anch'io con un mio personaggio ma in generale tanti tendono a fare questa cosa qui tantissimi in genere se non lo fanno è perché interviene qualcun altro di esterno a fermarli a sedarli in questo caso non c'era a sedarli a dirgli di darsi una calmata una frenata in questo caso era evidente che siccome questo sceneggiatore era il capo non c'era nessuno a dirgli non farlo cioè stai esagerando stai dando un po troppo importanza glielo hanno detto i dati di ascolto cioè sailor stars è la serie che è andata peggio tra tutte quelle di sailor moon perché lui ha dato un po troppa importanza non lasciamo stare la storia di usagi ma usagi e sei ha dato troppa importanza alle starlights e quindi ha avuto non era gli spettatori non erano lì per vedere le starlights erano lì per vedere i personaggi che già conoscevano quindi non è andata molto bene da questo punto di vista però ha avuto successo almeno nel trasmettere la passione che lui stesso ha avuto per seia e quindi per questa possibile storia d'amore che molti considerano più bella di quella inizialmente decisa dalla takeuchi e rappresentata non proprio benissimo bisogna dirlo dall'anima storico e quindi hanno è diventato una sorta di l'ho visto in tante fan fiction una sorta di storia d'amore irrequieta mi ha lasciato a molte fan l'impressione che molte e molti fan l'impressione che se se non ci fosse stato mamoru usagi sarebbe corsa tra le braccia di seia subito e avrebbero vissuto insieme felici e contenti per l'eternità io dissento anche su questo però ne farò un video a parte per ora mi focalizzo appunto solo su perché c'è stata l'impressione che seia amasse di più usagi amasse usagi di più più di mamoru faccio un esempio che non riguarda sailor moon che riguarda me come fan e che mi ha aiutato a cementare questa convinzione che ha avuto io guardavo una serie che si chiamava the good wife una serie tv americana e ti favo da morire per una coppia che non era in teoria quella ufficiale nel senso c'era questa donna che era un avvocato che era stata tradita dal marito e continuava a restare col marito un po per per dovere perché era una good wife una brava moglie e per la famiglia però al lavoro aveva questa sorta di tresca che per due stagioni non si è concretizzata in nulla col suo capo che in realtà lei aveva conosciuto all'università e che a lei lui non l'aveva mai dimenticata e alla seconda fine della seconda stagione i due iniziano ad avere propria relazione adultera e poi la terza stagione lei lo molla perché doveva essere doveva tornare a fare la moglie la brava moglie e io cioè la odiavo per questo e pensavo che come poteva lasciare un uomo così perché lui l'amava tantissimo si vedeva cioè tu spettatore vedevi questo personaggio willi le cose si chiamava il capo che smaniava per lei che la pensava in continuazione che anche quando non c'era lei faceva cose che comunque facevano capire che lei era sempre nel suo cuore diciamo così eppure nonostante tutto questo mio amore per questa coppia io pensavo anche che insomma il marito non la meritasse poi hanno fatto una puntata se non erro nella terza stagione credo in cui dedicata al marito e a come lui anche lui amasse alicia se così si chiamava la protagonista sua moglie e mi sono resa conto mentre si c'era questa questa esposizione dei sentimenti di lui facevano vedere la sua sofferenza l'idea che lei lo lasciasse sì lui l'aveva tradita ha fatto questo errore però l'amava lo stesso quando hanno fatto vedere le cose dal suo punto di vista io mi sono resa conto che per quanto fossi una fan scatenata dell'altra coppia mi faceva pena pure lui e ho desiderato per più di un momento che non lo lasciasse e mi sono chiesta perché com'è che poteva cambiare in questo modo il mio sentimento era molto ballerino insomma no per come per come era stata scritta la storia per quello che mi stavano facendo vedere il potere della narrazione in questo senso è grandissimo uno potrebbe dire mi piace questa coppia perché sono destinati adatti sono perfetti in realtà io sono profondamente convinta che se posto che non era nella trama non di sailor moon non aveva senso però se avessero fatto vedere a un certo punto mamoru che tornava la sua sofferenza l'idea che usagi potesse essere innamorata di un altro adesso staremo tutti dicendo che no dai in fondo seia non era adatto cioè lei amava un altro lo staremo dicendo con più forza persino chi fra voi era fan di seia e usagi perché il principale problema della coppia principale è che non c'è stato mostrato a sufficienza il sentimento di mamoru non nella solita maniera da shojo manga mentre invece nella quinta serie si è deciso di fare una rappresentazione più romantica più da shojo dei sentimenti di seia perciò niente concludo un po questo video invitandovi a valutare la situazione da questo punto di vista se guarderete riguarderete mai sailor moon ci sono parecchi indizi che ho lasciato in un altro video quello che riguarda solo il modo in cui il mamoru dell'anime storico ama usagi indizi che dimostrano che comunque anche se non c'è stato mostrato così tanto il sentimento di lui specie non l'abbiamo visto che smagnava per lei ecco che per il suo carattere per il carattere che aveva si vede che comunque teneva tantissimo a lei e che se ci fosse stato nella quinta serie avesse temuto che lei potesse lasciarlo avrebbe reagito probabilmente nel modo in cui vi ho detto prima e a quel punto avremmo tutti una considerazione da chi era già fan sarebbe soddisfatto ma chi non lo era così tanto avrebbe una considerazione di lui assai migliore di quella del presente e anche per questo non mi sento di dire il mamorio del manga è meglio perché lui sì che dimostrava la sua il suo affetto sì bella forza era uno shojo manga e quindi la focus era in continuazione anche lì sulla coppia insomma tendo a pensare che da parte degli sceneggiatori dell'anime sia stato fatto un torto al personaggio di mamoru è un grande grandissimo favore al personaggio di seiya però non so ditemi la vostra in merito a questa mia argomentazione è sempre interessante discuterne e sentirne parlare penso è una di quelle cose che siccome il manga è finito e l'anime storico è finito rimarrà una diatribe eterna o forse no perché tra poco avremo cristal che ci farà vedere come vi avrà trasposto in anime il quinto arco del manga dove a seiya non veniva data così tanta importanza e secondo me previsione tenteranno come hanno già fatto altre volte di riprendere qualche cosa del seiya dell'anime storico perché era troppo amato quindi probabilmente daranno una spinta in questo senso chi lo sa però se sarà così così tanto niente ditemi la vostra sono sempre interessata a sentirla ciao a tutti ciao a tutti